Sono passati ormai tre anni da quel 2016, anno in cui ho avuto la malsana idea di spostare router e computer dai due lati opposti della casa. Ovviamente non sono stupido i motivi tecnici, c'erano e ci sono. All'epoca ho risolto con delle TP-Link, basi, compresa italiana. Oggi però DeVolo, azienda tedesca, mi ha inviato questo DeVolo Magic 2. Ragazzi, dispositivo di altro livello ovviamente, non voglio neanche confrontarle, ci mancherebbe altro. Il problema, ovviamente, anzi mi viene da dire, l'unico problema che hanno è quella presa sciuco che per noi italiani potrebbe essere un grosso problema, anche se dopo vi dico come ho risolto parzialmente. La configurazione all'inizio è veramente semplice, io ho avuto qualche problemino perché probabilmente qualche mio collega, l'aveva già provato prima di me, non aveva resettato il dispositivo. Io l'ho resettato nei secondi, ho risolto e il pairing anche. Tutto ok, tutto liscio. Cos'hanno di diverso queste DeVolo Magic 2, insomma, perché alla fine è questo che probabilmente vi interessa, no? Beh, non sono solo delle power lines, cioè non trasferiscono solo la nostra rete internet attraverso il nostro impianto elettrico di casa, che, attenzione, deve essere un impianto ottimo, altrimenti avremo grossi problemi. Beh, queste DeVolo Magic 2 potrebbero anche risolverli questi problemi perché la loro caratteristica è che sono dispositivi Wi-Fi Mesh. Cosa vuol dire? Che le power line secondarie, non questa che vedete in foto, che va collegata direttamente al modem, le altre, che vi mostrerò tra poco, hanno anche il modulo Wi-Fi, tecnologia Mesh. Grazie a tutto questo, noi cosa possiamo fare? Praticamente possiamo anche clonare il Wi-Fi di casa, lui prende lo stesso nome, la stessa password, e quindi tutti i nostri dispositivi di casa si riconnetteranno automaticamente, senza dover riconfigurarli, alla power line più vicina. Lo stesso vale se noi ci spostiamo per gli ambienti di casa, il segnale sarà sempre ottimo ai massimi livelli, quindi considerate che io ricevo anche giù in garage, che è due piani sotto di me, garage in cemento armato, ricevo un'attacca, ma navigo veramente eccellenti da questo punto di vista. Questo è il modo giusto di installarlo, quello che vedete ora, senza adattatori, non quello che avete visto prima. Perché tutto questo? Perché vi dico questo? Il motivo è semplice, questo che vedete, questo speed test, è quello migliore. Io ho una 70 MB in down, 30 in up. Questo è quello intermedio, con adattatore tra power line e presa di corrente. Quello che vedete tra poco è lo scenario peggiore, sia a Wi-Fi che in Ethernet, vi mostrerò. Beh, come vedete, perdiamo circa 20 MB in download. Perché? Perché prima della power line c'è una bella ciabatta collegata che le ruba tutta la corrente, e questo è un grosso problema. Quindi, mi raccomando, connettetela sempre alla presa principale, e dopo alla presa passante collegate quello che volete. Fantastica l'interfaccia web, possiamo configurare il mesh Wi-Fi, possiamo attivare il parental control, la gestione temporizzata, veramente ottime le postazioni da esplorare, da starci una giornata, funzionano tutte alla grande. Niente da dire sotto questo punto di vista, ottima anche l'applicazione, possiamo anche disattivare i LED per la notte. Insomma, ragazzi, sono stato veramente contento di queste power line. Io non ho altro da dirvi, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti da Francesco e stintap.com